Sì, senza dubbio, è una bella cosa, è il mio terzo anno qua a Teramo e sono orgoglioso perché comunque siamo rimasti pochi che siamo qui da tanto tempo e quindi per me è motivo di orgoglio. Sì, sono test importanti anche se comunque in questo periodo quello che conta è entrare in condizione lavorando bene col preparatore, però sicuramente affrontiamo due squadre di valore, il Torino è una squadra di Serie A quindi sarà molto bello affrontare una squadra così importante e quindi la prenderemo come test molto validi in vista del campionato. I tifosi si seguono ovunque giochiamo e anche stavolta non ci hanno fatto mancare il loro supporto e nonostante la distanza sia molta, però non mi stupisco perché comunque in questi tre anni ho visto che i tifosi ci sono sempre vicini e spero che continuino a seguirci anche nelle prossime amichevoli e anche durante l'anno a Teramo perché è importante il loro supporto e il loro aiuto.